Quando fai la spesa da Crai, scopri che le sorprese non finiscono mai. Oggi, per esempio. Ciao, Giorgia! Sempre da Crai, eh? Sì, devo completare la raccolta dei bollini. Sai, fino al 4 ottobre, con ogni tessera finita, ricevi in regalo le padelle e le casseruole antiaderenti Mantua Ballarini. Eh sì, da Crai c'è proprio tutto. Anche l'acqua minerale frizzante San Benedetto. Crai, 7000 supermercati e negozi alimentari, dalla grande città al piccolo centro.